cosa sarà questa foto lo ignoro vediamo che degli occhi signora vediamo un bel tè bel tè una bella tisana limone e zenzero poi abbiamo una margherita poi abbiamo delle belle casette arroccate sembra la liguria sarà liguria non si sa beh gli occhi anche tu cara questa è pazzesca cieli stellati risate muri bianchi facce dettagli di facce della perché sono fotografiche sta pianta qua mi si ripropone con una c'è questo qua cosa sta facendo sei pazzo vediamo questo sfondo un po un po incentivare così il visitare musei barra gallerie in questo caso sembra fotografiche è possibile sono foto si andiamo in musei andiamo nelle gallerie facciamoci un po di cultura ma soprattutto seguiamo testi senza senso every day tutti i giorni alle 14 30 un testo senza senso io premerei giusto così la costanza no e quindi dato questo sfondo un po culturale la maionese non ci azzecca molto vediamo di cambiare il titolo l'agli lo la onde il sito ognuno no l'aido andare tardi intorno no ciccola medico sportivo no la la palestina lucente no vediamo vediamo no 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 cavolfiore nulla le qualora lo wurstel stabilire anche tardi molto dopo palapugno leggera voi incontrare celeste ovalizzato onda dunque pomodori davanti la onda così che presto ritenere tale lo tuffi dentro quantunque la onda è abbastanza presente lanciare ancorché tardi suonare riprendere e ok mi do cinque 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 titoli ancora e lo scelgo se duri in appartenere no il ascoltatore il dividerei no entrambi zodiacale il 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 sì perché questo il il ripetuto tre volte è quasi diabolico quindi va assolutamente cantato generiamo il testo questa volta però azzeriamo azzeriamo e mettiamo allora zodiacale colori cose decale degli arcaismi qua ci metto sostantivi verbi non ci metto articoli quasi quasi quindi teniamo soltanto il 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 nel ritornello aggettivi congiunzioni proviamo cassaforte imparcire però entrambi zodiacale il 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 cassaforte imparcire però no questo cassaforte non mi piace entrambi zodiacale il 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 entrambi zodiacale il 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 guidare rovistato innamorare famoso cadere smettere le vapunti gaieto zofilo solare abbandonare tenere cruciverba rosso porpora entrambi zodiacale il 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 non mi piace non mi piace niente noiosissimo entrambi zodiacale il 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 irremeabile sozzido entrambi zodiacale il 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 irremeabile sozzido già qua cominciamo a ragionare biscotto anche vispo votato scialuppa salutare russo flappo fantastico corsetto giallo temibile rossofragola importare tollerante unto entrambi zodiacale il 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 posata guna cominciare ozioso bancale tramato sbeffo ottenere confessare sbeffo marrone pastello zaffero effigie oggi ti sto per cantare caro allora vediamo un po tipo mazza mazza la misera sarà impegnativa anche molto lungo 427 vabbè tanto poi lo seguo vado vado Il rimeabile soffido Entrambi i zodiacali Il rimeabile soffido Biscotto anche Bispo, votato, scialuppa Salutare il rosso Russo Flappone Flappone Corsetto giallo Temibile rosso Flappone Importare Tolerante Punto Intervizio di Acale Il rimeabile soffido Entrambi i zodiacali Il 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 Posato Aguna Cominciare Odioso Bancale Tramato Spef Ottene Confessare Spefum Marrone Pastello Zaffiro Fice 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 Grazie a tutti.